Filippa Lagerba che la dedica per il compleanno di Bossari, sei l'uomo che ho sempre sognato Oggi, 1 ottobre, è il compleanno di Daniele Bossari. Il concorrente del grande fratello Vip compie 43 anni e ha festeggiato la ricorrenza ieri sera con una cena insieme agli altri inquilini Intanto, da casa, la moglie Filippa Lagerba non ha mancato di rivolgergli gli auguri e una dedica bellissima attraverso i social. L'irresistibile dedica di Filippa a Daniele Bossari Questo è il messaggio pubblicato dalla Valletta di Che Tempo che fa su Instagram, alato di una splendida foto di coppia Auguri amore mio, ti amo da impazzire, scavalcherei quel muro per abbracciarti e per dirti quanto sei speciale. Ma so che il mio pensiero ti arriverà, siamo sempre connessi Divertiti e goditi questa esperienza pazzesca, sono orgogliosa di te, sei l'uomo che ho sempre sognato Alla faccia delle voci che vorrebbero la coppia in crisi, già peraltro smentite dalla stessa Lagerba qualche giorno fa, hanno scritto di tutto, che siamo in crisi, che sono gelosa e non c'è nessuna crisi. Siamo una coppia solidissima Il discorso di Bossari ai ragazzi della casa. Lontano dalla sua amata, Daniele ha festeggiato con i compagni d'avventura con un divertente toga party e ha regalato loro parole molto commoventi, qui il video ufficiale Sono molto contento di essere qui, sono onorato della vostra presenza. Sono felice di condividere questo momento con voi, persone che sto scoprendo in questa casa e persone che mi stanno cambiando la vita Veramente? Perché uno dei motivi per cui sono qua è che dovevo combattere una serie di fantasmi e voi mi avete già fatto vincere molte battaglie. Alcune mi rimangono e spero di avere il tempo per poter vincere l'intera guerra. Grazie Alla festa non ha partecipato Cristiano Malgioglio, molto criticato dai compagni che lo accusano di isolarsi e non rispettare la regola Il paroliere ha poi spiegato ai fratelli Rodriguez di non riuscire ad affrontare le feste di compleanno perché gli ricordano la morte dell'amata sorella, la cui notizia gli venne comunicata proprio il giorno in cui compiva gli anni L'amore tra Bossari e Lalla Gerbach. La storia tra Bossari e Lalla Gerbach dura da lontano 2001. Nonostante i 16 anni di vita insieme, Filippa e Daniele non sembrano decisi a sposarsi, ma nel 2003 sono diventati genitori di una figlia di nome Stella E' un papà bravissimo, a volte fa la parte di quello severo, a volte è molto giocherellone, ha dichiarato la bella presentatrice svedese Grazie a tutti